Torre del Greco avvolta dalla nebbia. I cittadini questa mattina si sono trovati davanti immagini surreali. La nube bianca sembra essere arrivata dal mare. I primi a notarla sono stati alcuni pescatori al porto. La nebbia ha reso impossibile vedere anche edifici come palazzo baronale. La nube è presto arrivata alle strade cittadine, in particolare nel centro. Persino l'intera figura del Vesuvio è diventata invisibile. Le immagini provenienti da balconi e finestre torresi mostrano la città avvolta dall'enorme nuvola bianca. Come è possibile notare dalle immagini, la nebbia si è concentrata principalmente su tutto il versante costiero, arrivando fino al tratto di Castellammare. Un fenomeno ancora più singolare se si considera che a Napoli splende il sole da tutta la mattinata. Ovviamente i social si sono già scatenati, in tanti hanno già pubblicato foto e video della strana nebbia torrese.